Buonasera Ministro Di Maio Prima di tutto, Dodo Vespa Io ho scritto un libro In questo libro c'è tutta la mia storia Da quando fin da piccolo mi aggiravo per i vicoli di Avellino Scalzo, denutrito e schifato da tutti A quando recentemente mi sono trovato al G20 Davanti alle delegazioni del mondo intero Schifato da tutti Detta così non sembra una bella storia Come no? Prima mi schifava solo Avellino